Roma, foro italico. Contro il peso medio marocchino Alcantara, Tiberio Mitri vuol celebrare la sua piena resurrezione. Gli è vicina Fulvia Franco che gli anticipa il premio della vittoria. Tiberio picchierà sodo. Sarà come ai bei tempi della scalata al campionato europeo dei medi. Il Mitri che mitraglia l'avversario. Alcantara ne incassa con disinvoltura le scariche. Sì ma è soltanto all'inizio. Quest'altra serie di Tiberio è una granola che si abbatte su Alcantara e per poco non lo sommerge. Mitri ha riconquistato i favori della folla. Dante Maggio e il piccolo Angelo ne sono elettrizzati. Anche nel corpo a corpo Tiberio impone la propria aggressività. Sa di aver vinto e non permette all'avversario di sottrarsi ai colpi aperti. Nessun dubbio sull'esito del combattimento. Il primo a riconoscere il merito di Mitri è proprio Alcantara. Quanto al marocchino in suo viso dimostra che Tiberio picchia ancora forte.